il nuovo regolamento stradale ti dice che puoi andare in giro a fari spenti senza sale e frecce lampeggiante spento e neanche all'ombra di uno specchio per vedere cosa stai combinando quelli dietro va fa un culo va il nuovo regolamento stradale ti dice che puoi andare in giro a fari spenti senza sale e frecce lampeggiante spento e neanche all'ombra di uno specchio per vedere cosa sto combinando a quelli dietro